Chiedo un commento a Caldo sul premio. Innanzitutto la soddisfazione, non solo per me, ma per il gruppo di lavoro che rappresento, che è il gruppo del team dei geologi e ingegneri geotecnici di Speri. Soprattutto il tema è una non ordinaria interpretazione di un progetto, ma un affiancamento da un'amministrazione nell'emergenza frane, sia nella fase della gestione dell'emergenza, quindi nella fase più di supporto materiale, sia nella fase di pianificazione degli interventi, sia nella fase di identificazione dei maggiori rischi e priorità di intervento. E poi è partita la progettazione che è ancora in corso, purtroppo, con tempi piuttosto lunghi, ma intanto i primi passi erano stati tutti quanti preparati per fare gli interventi. Un ringraziamento a Oice, con piacere perché non è comune in questo ambito di interventi di essere riconosciuti su una platea, sono presenti molti architetti di ingegneri e alcuni geologi. Quindi un ringraziamento a Oice e il riconoscimento anche per il lavoro fatto dal gruppo dei geologi.